parliamo ora di come è possibile validare i form per esempio per controllare che un campo che accetti una data abbia davvero una data a suo interno e la data nel formato giusto per esempio giorno mese anno di due cifre per il giorno due cifre per il mese due cifre per l'anno e in quell'esatto ordine innanzitutto che cos'è la validazione di un form la validazione di un form è una cosa che tipicamente classicamente avviene lato server side quando si sottomette un form il server è tipicamente responsabile di verificare che i dati del form siano validi e corretti per esempio se uno inserisce e invia in un form il nome utente una password il server deve verificare che il nome utente che la mail per esempio per il nome utente è nel formato corretto è un qualcosa chiocciola dominio punto it punto com e allo stesso modo che la password rispetti criteri minimi necessari da dal server richiesti dal per l'autenticazione sul server e questo è quello che avviene tipicamente sul server ma un po di validazione si può anche fare nel client quindi una primo giro diciamo di validazione nel browser e poi i dati vengono sottomessi server dove viene fatto un'analisi più approfondita una verifica più approfondita dei dati del form perché fare una validazione del lato client beh per diversi motivi perché vorremmo proteggere per esempio i dati dell'utente un esempio classico è quando vi chiedono di utilizzare una password sicura quindi con tre lettere due cifre una lettera maiuscola una lettera minuscola eccetera e vogliamo avvertire subito la persona che sta inserendo una password non accettabile non vogliamo avvertirla dopo che ha compilato un form di magari due pagine e ha inviato i dati al server e poi gli ritorna un messaggio con scritto password troppo corta no vorremmo farlo subito immediatamente in modo che possa correggerla subito oppure perché vorremmo i dati e le informazioni nel formato corretto in un formato giusto prima di processarli per esempio come vi ho detto prima noi potremmo volere una data nel formato giorno mese anno 10 05 2020 e non 10 maggio 2020 infine il terzo motivo per cui fare client side validation ma è un motivo abbastanza debole è per proteggere l'applicazione l'applicazione anche server però bisogna sempre ricordarsi di non fidarsi mai o non fidarsi troppo della validazione lato client fatta nel lato server perché lato client possono succedere varie cose anche livello di sicurezza che possono compromettere i dati inviati che partono per il server quindi è sempre bene comunque rifare o rifare una validazione più approfondita lato server lato client fare la validazione che serve affinché la persona non diventi diciamo frustrata nel compilare form ricevendo sempre form indietro dopo averli compilati ma possa immediatamente correggere i macroerrori che incontra e sappia chiaramente quali sono per esempio i campi obbligatori quali sono per esempio i campi facoltativi abbiamo già visto come in parte come si può fare questa validazione client-side abbiamo visto che gli input element di html5 possono per esempio specificare il tipo se un tipo email allora ammettiamo che la sintassi sia del tipo email accettiamo solo testo che rappresenta un email url controlliamo se una valida url numero accettiamo un input solo se è di tipo numerico e l'attributo required in questo campo è obbligatorio non può essere lasciato vuoto se il campo viene lasciato vuoto il form non può essere sottomesso inoltre possiamo avere anche una validazione lato javascript quindi con del codice specifico che verifichi la correttezza dei valori inseriti nei singoli campi di input quando ci interessa la punta validazione sul form tipicamente si appoggia su questi elementi il type come visto prima il pattern se vogliamo applicare un'espressione regolare min e max per i numeri per i valori numerici un campo di testo che si può inserire numeri da 18 a 35 non di più un testo di una lunghezza minima a una lunghezza massima oppure appunto se il campo è richiesto oppure meno da notare che il browser quando un elemento è valido aggiunge una pseudo classi css che si chiama valid quando il campo invece non è valido aggiunge una pseudo classi css che si ma invalid queste due pseudo classi valid e invalid possono essere utilizzate per esempio in css per dare uno stile diverso ai vari controlli del form e questo è un esempio vedete qui abbiamo un form con una label e un'etichetta che chiede email address e un email questo email vedete di tipo questo campo input di tipo email quindi accetta valida ed è richiesto quindi deve essere pieno e deve contenere al suo interno del testo che sia in un formato corretto sintattico per un email e allora vedete che in css noi possiamo prendere questo input e dire che quando c'è la proprietà invalid mettere un bordo rosso tratteggiato spesso due pixel quando è valido invece il bordo deve essere sempre due pixel ma nero e non tratteggiato solido e vedete cosa succede se inserisco un qualcosa che assomiglia a una mail anche se magari non è una mail corretta ma assomiglia a una mail il bordo è nero se invece inserisco un qualcosa di incompleto o niente il bordo rimane tratteggiato perché il browser introduce questa pseudo classe invalid nel primo caso nel caso tratteggiato e valid invece quando c'è un qualcosa che assomiglia c'è un qualcosa e questo qualcosa assomiglia una mail inoltre si può anche fare una validazione via javascript per appunto o approfondire meglio cosa succede all'interno di un campo oppure per cambiare i messaggi di errore per esempio che arrivano ai singoli elementi di controllo del form e ci sono due approcci uno che si chiama constraint validation api quindi una serie di metodi per la validazione messi a disposizione dal DOM e un altro che è utilizzare gli event listener per alcuni eventi specifici da intercettare e agire di conseguenza le constraint validation api sono proprietà e metodi disponibili nel DOM per vari elementi del form e attraverso javascript è possibile verificare la validità controllare i messaggi d'errori eccetera e questi elementi sono questi indicati in slide per esempio per l'elemento input l'elemento html input element permetterà di verificare la validità personalizzare i messaggi d'errore e così via quali sono queste proprietà queste proprietà quelle più comuni sono queste c'è un validation message che è un messaggio localizzato nella lingua corrente che descrive i constraint della vita della validazione che la single controllo non soddisfa per esempio è vuoto per esempio la password la mail non è formato valido c'è uno stato di validità che dice se è valido o non valido e qual è in un certo senso la causa di questa invalidità c'è un mismatch del pattern è troppo lungo è troppo corto e così via c'è una proprietà will validate che è vero se l'elemento sarà validato non in questo momento ma solo quando il form verrà sottomesso c'è un metodo check validity che restituisce vero se l'elemento non ha problemi di validità altrimenti restituisce false e lancia un evento invalid e infine c'è un metodo set custom validity che permette di impostare un messaggio di errore di validità personalizzato quindi non utilizzare quello di default ma inserirne un appunto personalizzato rispetto al controllo specifico che si vuole fare l'altro modo per la validità è quello di intercettare degli eventi del form allora quali sono questi eventi del form questi sono gli eventi principali e un form e su controlli hanno un evento che si chiama possono generare un evento che si chiama input questo evento input viene generato ogni qualvolta il valore di un elemento è cambiato quindi in un campo di testo input di testo ogni volta che inseriamo una lettera o un numero all'interno di quel campo viene generato questo evento quindi se dobbiamo inserire 15 o 150 quando inseriamo 1 viene generato l'evento di input quando inseriamo 5 viene generato un altro evento di input e quando inseriamo 0 viene generato un altro evento di input ogni volta che c'è un input l'evento change invece viene lanciato quando qualcosa cambia in un elemento per esempio in un elemento testuale viene lanciato ogni volta che l'elemento perde il suo fuoco quindi se noi stiamo scrivendo qui immaginiamo davvero un elemento testuale se abbiamo se qui abbiamo un elemento testuale e stiamo scrivendo qui ci sarà il fuoco nel momento in cui abbiamo un altro elemento qui sotto quindi momento in cui smettiamo di scrivere qui e incominciamo a scrivere qui sotto il fuoco passerà da qui a qui questo è il focus il focus passerà dal primo elemento al secondo elemento e quindi l'evento change verrà lanciato perché il focus da un campo testuale un altro e genera questo evento è cambiato qualcosa nell'elemento non c'è più il fuoco il fuoco è passato a qualcos'altro ci sono altri tre eventi taglia copia incolla che come dicono il nome sono tre eventi che vengono lanciati quando l'utente taglia copia o incolla qualcosa in un specifico campo di controllo di un form focus quando l'elemento ha il focus e blur quando l'elemento lo perde in ogni caso e poi l'evento invalid che abbiamo già visto prima che è un evento che viene lanciato oltre che nel caso del check validity anche quando il form è sottomesso e questo evento viene lanciato per ogni elemento che è invalido e anche per il form stesso questo è un esempio abbiamo il nostro form molto semplice un campo di testo e un bottone submit andiamo a recuperare l'input vedete in javascript di tipo testo in questo caso tutti ma in questo caso c'è solo questo e andiamo a associare a questo input a questo tag input due event listener uno che intercetta l'evento input e uno che intercetta l'evento change quindi ogni volta che inseriamo un qualcosa all'interno un numero una lettera all'interno di questo campo questo è un testo quindi accetta tutto se scriviamo ciao questo evento viene generato viene scatenato quattro volte una volta per lettera di ciao e quando muoviamo per esempio il fuoco da qui e primiamo il bottone submit questo evento non verrà più scatenato ma scatenerà quest'altro evento perché è change e vedete che questo è javascript normale essenzialmente la variabile accetta un valore una callback questo è il parametro della callback e questo è un arrow function anche la sottomissione del form dell'intero form genera un evento che può essere intercettato con l'evento che si chiama submit se richiesto dato che l'evento di sottomissione del form ha un comportamento di default si può utilizzare event punto prevent default per evitare che l'azione di default venga eseguita alla sottomissione del form quindi in questo caso se noi abbiamo un form intercettiamo l'evento submit e quando l'utente schiaccia submit si evita il comportamento di default che è quello di inviare il form a un server per le sue elaborazioni ricevono una risposta in una nuova pagina ma in questo caso stampa a log submit e la pagina non viene ricaricata tutto viene gestito e in questo caso in javascript abbiamo tutto all'interno di un'unica pagina infine qui ci sono un po' di reference che vi permettono se vorrete di approfondire alcuni degli aspetti di validazione e di tipi di controllo che abbiamo visto e accennato in questo set di slide